Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TanZero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò. Il Podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Iconico, leggendario, poetico, il bello e dannato. Un pazzo tra il mito e le false storie che lo riguardano. Tra film al limite del patetico. Chi è davvero Jim Morrison? Emblema di ribellione, trasgressione, conobbe un'infanzia nomade segnata da continui spostamenti dovuti alla carriera del padre, un borghese. Di fatti Jim non è nato povero. Il suo crucio fu il non potersi permettere il lusso di legarsi a nessuno. E in quegli infiniti viaggi in auto, la compagna più preziosa fu la musica. Il suo rifugio furono i libri. Lettore vorace, assetato di sapere, poco incline la disciplina e il compromesso, sia in casa che a scuola. Ma del resto ruppe il rapporto con i genitori da giovanissimo, rinunciando a notevoli privilegi. Per intraprendere comunque un percorso altamente incerto, pur di proseguire le sue aspirazioni artistiche. Nel più becero dei luoghi comuni, talvolta venne ricordato come un fantoccio dalla mente costantemente offuscata dai fumi dell'alcol, era invece una persona molto brillante, incredibilmente acculturata, e incantava ogni sorta di interlocutore. Circolano su internet, sui diari di scuola, sui muri, migliaia di aforismi firmati Jim Morrison. Nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di risorgere. Ma non l'ha scritta Jim Morrison. Che poi sono aforismi anonimi di una tragica banalità e ingenuità. Come piangevo perché non avevo le scarpe, poi vidi uno che non aveva piedi, quando morirò andrò in paradiso perché l'inferno l'ho vissuto qua giù. Ma chiunque abbia ascoltato una qualsiasi canzone dei D'Orso, soffermandosi sui testi, può benissimo comprendere, senza spiegazioni, il perché sono frasi false, che non sono scritte da lui, perché non sono riconducibili a Morrison, alla sua poetica. Ma del resto la falsa attribuzione è un classico, è una conseguenza di un successo travolgente. Cioè lui è proprio un pezzo di mitologia proprio, ecco, e quindi di conseguenza è normale. Si tende per diffondere, per dare credibilità a un qualcosa, per infondere sostanza a un proprio gusto personale, di attribuire certe frasi all'uomo, diciamo, in voga, in quel momento, nel mondo, ecco. Accade da sempre, nell'antichità classica addirittura, da poeti come Omero, Virgilio. Tuttavia nella produzione di Morrison c'è ben poco di misterioso, nascosto, sconosciuto. Del resto le falsità sul conto di Morrison raggiungono l'apice, anche riguardo la sua misteriosa morte, che poi di misterioso non ha un bel niente. Cioè la morte di Morrison in quel di Parigi nel 1971 fu una spaventosa tragedia umana di solitudine e di abbandono. Insomma, ragazzi, è possibile vagare tra le menti dei giovani, ed è impossibile però riportare la verità su questo personaggio, perché Jim Morrison non era solo quello che era, bensì quello di cui la gente crede di aver bisogno, che è ciò che accade appunto ai miti. E quindi sei più mito che realtà, ideale e leggenda. Non so quanto di vero ci sia in questo episodio che sto per raccontare brevemente, ma ciò che mi ha più colpito, ad esempio, del film è quando lui, per una dimostrazione d'affetto, si cala dalla finestra rischiando di morire, facendo emergere un vero e proprio ricatto emotivo alla sua donna. Uno dei tantissimi episodi di questa vita breve, ma segnata da quei lunghi viaggi, da quell'impossibilità di legarsi a qualcuno, a qualcosa, una ricerca continua di casa, che ti porta allo stremo per manifestarti, in quella perenne sensazione di non avere mai appunto una dimora e che da bambino ha forgiato un rivestimento d'acciaio su di un'anima troppo umana per continuare a viaggiare troppo a lungo. Per questo si è spento così giovane. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music. Grazie a tutti.